Che non ha nessun senso, perché ripeto, per la prima volta anche i pensionati hanno una pensione più alta e pesante, quindi nessuna categoria lavorativa dal taglio delle tasse è stata esclusa, nessuna, e quindi ci aiutassero a trovare più soldi in Parlamento per tagliare le bollette della luce del gas, ad esempio tagliando un po' di sprechi dal reddito di cittadinanza. Ecco, su questo penso che il confronto sarebbe interessante, dire di no a prescindere non aiuta nessuno.